Ciao amici, è mercoledì e andiamo a recensire il nuovo topolino uscito oggi, il 3517, con questa bella, veramente bella copertina di Francesco Dippolito, molto molto bella, una bella copertina senza strilli, molto bella. Allora andiamo a vedere questa, non basta essere fuori moda per essere un'icona di stile senza tempo, bisogna essere anche divertentissima battuta tra Paperon dei Paperoni e l'arci nemico miliardario Rockerdack, che oltretutto tra poco di Rockerdack ho già messo sulla commissione, ve ne parlerò, ma questo sarà in un altro video. Allora la collezione dei cappelli che io non faccio, i copricapi di questo di Paperon dei Paperoni, qui qua e Paperino, il solito editoriale che annuncia l'editoriale di Bertani, soprattutto che parla anche di Giorgio Cassin, signito del titolo di Magistre del Comic Con di Napoli, che parteciperà perché ci sarà poi, già ve l'anticipo, questa variant del prossimo Topolino, ecco questo qui che volevo recuperare perché in tema calcistico che adesso sto recuperando con Amelia, chiaramente Napoletana Verace, strega Napoletana Verace e questa è la copertina del prossimo numero. Allora andiamo a vedere le storie. Allora per quanto riguarda la storia Obiezioni a Mostro Onore, questo è l'ultimo episodio della stagione 2 di Siamo Serie, che io non ho letto, adesso recupererò insieme dal 3514, sì, e leggerò tutte insieme, poi vi recensierò come ho fatto con la prima stagione. Questa è la storia di, appunto, storia di Sergio Vadino e di Senni Silvia Ziche, ma ripeto, questo voglio leggere tutti insieme. A proposito, e qui già faccio un anticipo, la prossima, dalla prossima settimana, qui c'è tutto un reportaggio che fa, c'è il direttore che l'intervista che viene fatta a Pietro Zemelo e al disegnatore Nico Picconi, Tricanini inizia un archipelago di avventura, un'avventura, una matrizia della cometa in sei episodi. Beh, io dico, sono troppi, secondo me. Anche queste vorrei fare in modo tale di leggerle tutte insieme, perché altrimenti si leggi, poi si dimentica, quindi cercherò di fare una lettura lunga e poi parlarvene. Staremo a vedere. Però, io ripeto, secondo me episodi così sono troppo lunghi. Quindi, andando alla storia, questa di, la grande, che parla nelle terre del nuovo mondo, storia di Sergio Cabella e Luca Raina, disegnechini di Nino, Nico Picconi, anche questo era Nino Picconi, colori Chiara Bonacini. La grande traversata che qui ben venga perché si è chiusa in questo malbo. Nell'episodio 2, la grande traversata, nell'episodio 3, le sterminate foreste rosse. Allora, la storia, i disegni molto, molto, molto belli. Disegni, devo dire, tavole bellissime. Complimenti a Nico Picconi. Vedete anche qua, vi faccio vedere alcune tavole. Mi sono piaciute veramente tanto. Anche qui, su questa storia ambientata agli inizi del Seicento, con il Granduca Narciso, il Granduca di Livorno, che vanno in terra, in Oriente, per recuperare il Pernambuco, che etnicamente è una pianta rossasta che serve per colorare le vesti perché sapevamo che il, appunto, questo Conte, Luca, c'è questo, sì, il Duca Conte, il Granduca Narciso, appunto, allergico alla Cocciniglia, che colorava le vesti di rosso. C'è tutta questa traversata con i nostri personaggi, Paperin, c'è Trinchetto, attraverso questo sia un veliero che poi in realtà dovrebbe essere, secondo il periodo, un galeone, però viene usato, e questa tartana, che era una specie di barca a un solo albero. La storia, io cerco di riassumerla un po' tutti gli episodi, arrivano, ci saranno degli svolti di personaggi che sembravano onesti, invece non lo sono. La storia è carina, però purtroppo devo dire che, al di là dei disegni, ecco, che uno dice, beh, allora dici, potresti, allora dice, no, è finita troppo frettosamente, quindi ci vuole più episodi. No, è che io non so cosa succede, ma un tempo, e io adesso, vedete che ogni tanto recensisco dei vecchi topolino ambientati negli anni 70-80, erano in due storie, però forse erano, erano già nate, non erano affazzonate, ripeto, una storia mi è piaciuta, non è che è una brutta storia, però per come era partita, per come io mi aspettavo, poi anche perché il periodo storico questa a me piace molto, ho detto, ma questa è partita, per dargli un 10 invece no, gli posso dare un 7 a questa storia qui. Un 7, ripeto, poi con i... però ecco, un 7, anzi, gli dovrei dare un 7 e mezzo perché i disegni veramente sono, volevo vedere anche qualche... ecco, vedete, sono veramente, veramente belli. Se fosse solo uno dovrebbe dare il premio, cioè il voto per il disegno, gli darei senza ombra e dubbio un 10. Poi andiamo alla storia, poi ci sono tutti, da grande farò l'astronauta, Barbara Garuffi che intervista Samantha Cristoforetti. Abbiamo poi una storia, questa è l'unica storia autoconclusiva, che è Pippo e i minifrilli elusivi. Dopo dico l'unica ma non è l'unica, ma dopo me li parlo. Pippo, scusate se sentite abbagliare, ma è una delle mie cagnoline, abbiate pazienza. Pippo e i minifrilli elusivi, storia carina, storia scritta da soggetti sceneggiatori di Rudy Salvagnini, disegni di Marco Palazzi, di questo Pippo che appunto immagina che ci siano questi minifrilli, questi personaggi che stanno nascosti dietro le spalle, che come uno si volta o non riesce a vederli, e Topolino appunto che cerca di fargli capire che in realtà non esistono, ma poi in realtà, posso spoilerarlo, esistono questa specie di elefante suino, carina ma nulla di che, insomma, storia... ecco qui mi rendo conto che erano queste storie, potevano funzionare negli albi vecchi, in questi albi invece funzionano, mi sono piaciute molto quelle storie con Paperoga o Bellissia, quello Paperino e Richiamo del Mare, quello un capolavoro. Questa sì, carina, gli do un sei disegni classici. Poi andiamo ai giochi, appunto per questo reportaggio su questa lunghissima avventura di l'isola della cometa. Ah, e poi ecco qui, carinissimo, nell'angolo non si scorda mai, abbiamo l'amico, il carissimo amico Zee Lane, che dice, caro Topolino, qui con me ho il numero uno, l'inizio di tutto, e uno dei tuoi traguardi, il 3500. E dico ancora complimenti ad Elaine che è riuscito nella sua bellissima appunto traguardo di collezionare tutti i Topolino, quindi veramente complimenti. Poi abbiamo l'anticipo del nuovo Topolino della prossima settimana, il 3518, che come vi ho detto, a questa variant calcistica che io vorrei recuperare. Abbiamo le storie fumette, l'esistenza della cometa, inizia Flight 001, episodio 1 di 6, storia di Alex Bertani e Pietro Zemelo, quindi che è quello che vi ho detto uno dei soggettisti e sceneggiatore, i disegni di Nico Picconi, che è lo stesso Nico Picconi, quindi spero che almeno nei disegni non saremo delusi di lo stesso di questa avventura nel nuovo mondo. Poi Topolino la via della storia, una attraversata pericolosa, Archimede l'amico perfetto, ecco qui nel prossimo noi sono due storie autoconclusive, quindi Archimede l'amico perfetto e Zeo Paperone la legge è una da salvare. Poi per le pensatone di Fiuto Gio, che è il cane di Dynamite Blah, che come ho fatto da posto Dynamite Blah, se andate a vedere l'ultima recensione che ho fatto di un vecchio Topolino, il 1023 del 1975, dice un disegno come a me piaceva Dynamite Blah, come l'ha disegnato un tempo. Qui poi c'è sempre la pubblicità, questi copricapi dei personaggi qui, Paperone dei Paperoni, come ho detto qui qua qua e Paperino, che però io non faccio. Poi adesso andiamo alla storia, che è un'altra delle storie con l'altra copertina, Topo anniversario di Francesca, 100 anni di animazione fumette e tanto altro. Questa è la copertina, diciamo la retro copertina, che festeggia sempre i 100 anni di meravigliose emozioni. Un'incredibile avventura spaziale. E questo devo dire che è una storia che un pochino mi ha deluso. Sì, mi è piaciuta, però tratta ed è ispirato da Mr. Mouse and Tekken Trips di Francesco Astribani, sceneggiatore di Alberto Savini, con Topolino in questo treno spaziale che cerca appunto, con Gammalegno, che cerca di sfuggire. C'è questo, viene inserito Pluto come cane controllore. Disegni forse troppo colorati, non è che mi hanno fatto impazzire questa qui. Una storia che rispetto a quella che c'era stata di Paperino e Cipe Shop, quella mi era piaciuta molto, sia come essere quei disegni. Questa no, non mi ha fatto impazzire. Gli do, dovrei dargli un 6 meno, però ecco gli do un 5,5 perché ripeto, né coi disegni né come storia mi ha entusiasmato. Però ecco, ripeto, questi sono gusti personali, ecco sì c'è questo, troppo forse psichedelica, ma ripeto, questo è un mio gusto. Poi la disegnatrice, quindi dopo per carità, dopo c'è tutto un reportage che dico sempre complimenti sia ai sceneggiatori che ai disegnatori, nulla da dire. Però questo ognuno esprime nella sua recensione, nel suo parere. Quindi diciamo che un Topolino, questo ecco, non ne ho visti di meglio. Adesso ecco, non so come sarà questa seconda stagione di Siamo Serie, adesso che è arrivato il quarto episodio, li ho tutti, quindi li leggerò e recensirò poi insieme questa. E sicuramente farò lo stesso con quello delle terre della cometa, sicuramente farò così perché su storie, io ripeto, secondo me troppo lunghe, storie fatte in 6 episodi sono troppo lunghe. Poi però, ripeto, bisognerebbe trovare un equilibrio, nel senso, né farle troppo corte, quindi raffazzonate e concluse in fretta, né troppo lunghe che dopo, come si dice, qui da noi il brodo si allunga. Però staremo a vedere. Va bene, comunque il Topolino resta sempre un prodotto validissimo, veramente. Io dico anche che veramente la carta, cioè adesso ho recuperato dei Topolino della fascia 3004, erano, torna con una carta molto scadente, tant'ora che ho visto anche un videotempe, è riuscito Zilen, che si lamentava della, c'era un periodo in cui la carta veramente la scadente, e addirittura io ho dei vecchi Topolino, quella appunto che ho recensito da poco, il 1023, con una carta si ruvida, si emozionano i miei giornali, ma almeno non creava quel fastidiosissimo rumore di quando si aprivano. Va bene, con questo io vi ringrazio e a, voglio dire quindi che ecco, adesso il prossimo personaggio, tanto avete visto, parlerò di Rockerdac, del miliardario, diciamo, nemico, concorrente di nostro zio Paperone, che ripeto, qui in questa copertina di Francesco Di Polito è veramente, veramente una bellissima copertina. Quindi già questo fa aumentare di punteggio. Quindi diciamo che facendo una classifica, anche qui ripeto, non c'è la storia delle Siamo Serie, però ecco, metto al primo posto la Grande Traversata, perché non è un finale che non mi è piaciuto tanto, però per i disegni fantastici. Al secondo posto metto Pippo e Vinifrilli elusivi, al terzo questo è un'imprevedibile vacanza spaziale, perché insomma non mi ha fatto impazzire. Va bene, ciao a tutti e buona serata.